Una ragazza sta per andare al suo primo appuntamento con un ragazzo. Allora la mamma si rivolge a lei e le dice Figlia mia, ti raccomando, stai attenta perché gli uomini sono tutti approfittatori. Stai attenta, se lui ti vuole toccare il seno, tu gli devi dire che ci sono le spine e pungono. E se lui ti vuole toccare in mezzo alle gambe, gli devi dire che lì c'è un forno caldo che scotta. Va bene mamma, e la figlia se ne va. La sera, appena la figlia si ritira, allora la mamma ci va e le dice Allora figlia mia, che cosa è successo? Niente mamma, è successo che lui mi voleva toccare il seno e io gli ho detto che c'erano le spine che pungevano. Brava, brava. E poi, poi lui mi voleva toccare le gambe e io gli ho detto che c'era un forno che era caldo caldo e che sottava. Ah, brava, brava figlia mia. E poi, poi che cosa è successo? E lui mi ha detto che ci voleva mettere la salsiccia per cuocerla. Ah, sì? E tu che hai fatto? E io che ho fatto mamma? Dopo due ore di cottura, lui me l'ha fatta assaggiare ed era ancora cruda. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. E io che ho fatto?